ciao a tutti sono pietro cavalli finalmente oggi abbiamo tutta la serie dei pianoforti nuovi yamaka kawaii disponibili in tutti i colori e in tutte le versioni silent aurex apx 4 atx 4 veramente sono rimasto colpito dalla qualità che continua a aumentare su questi pianoforti parlando di kawaii la serie k 300 a salire k 400 k 500 600 800 sono giapponesi e la 300 che è una novità nell'essere giapponese questo è l'ottocento pianoforte di altissima qualità e qui abbiamo per chi vuole fare i confronti yamaka in tre ultimissima serie appena arrivato tutti questi pianoforti possono essere con atx 4 che è il sistema silent o aurex che è il sistema yamaka chiama silent kawaii atx 4 atx 4 è l'ultimissimo modello disponibile e aures o transacoustic che sono i sistemi ibridi dove il suono non solo nelle cuffie ma si può regolare il volume perché la cassa armonica che vibra non ci sono altoparlanti dentro un sistema particolare quindi l'acustica è veramente armoniosa come se fosse un pianoforte la cosa bella addirittura è che si può suonare sia il pianoforte in acustico ma utilizzare uno di questi suoni a scelta violini organi oboe clarinetto fagotto qualsiasi suono sovrapposto sul pianoforte acustico che sta suonando emozioni incredibili tutti questi pianoforti come come vedete addirittura sono ancora bloccati non li abbiamo ancora finito di sbloccarli è arrivata proprio tutta la serie c'è c'è la sbizzarrirsi a confrontarli e sistemi questo è il sistema nuovo silent della yamaka pianoforte a coda sia yamaka che kavai hanno ottenuto una qualità molto alta anche con prezzi abbordabilissimi di tutte a tutte le misure tutti i modelli tutte le misure dai 160 170 180 e a salire e la qualità dei pianoforti nuovi che rimango stupito rapporto prezzo qualità anche su tutti i pianoforti classici c'è la possibilità di avere l'elettronica quindi poterli suonare di notte senza disturbare nessuno classico nero ma il bianco ha il suo fascino come abbiamo visto in tutti quegli strumenti poco fa yamaka stessa cosa con kavai anche qui dal 150 cm di lunghezza a tutte le misure abbiamo anche un'eccellenza quando volete venire a fare dei confronti nuovo pianoforte u3 x arrivato il nuovissimo il nuovo sistema di pedaliera nuovo look di questo pianoforte nuovo look alle gambe e alla pedaliera molto elegante ecco il bianco non possiamo dire niente sul bianco è un è una cosa veramente che rischiara la stanza non possiamo dire niente del nero perché il nero è un'altra cosa veramente bella e l'eleganza la e prendiamoli tutti e due facciamo una stanza bianca una stanza con il pianoforte nero oggi vi ho fatto vedere tutti i pianoforti nuovi questi sono tutti i pianoforti nuovi con la precisione con quel suono che solo sul nuovo ci sono certe sensazioni però la prossima volta vi faccio vedere anche tutto l'usato dove ci sono molte cose interessanti ora vi saluto e vi do l'appuntamento col prossimo video e guardando questi due colori meravigliosi cose che mi viene in mente lo ying e lo yang alla prossima